Se non hai mai sentito parlare di Open House e non sei sicuro di cosa significhi e in che cosa consista, sei nel posto giusto. Mi presento, sono Alessandro Lanfranco, agente immobiliare del gruppo Oggi è Casa, con punti vendita da finale ad Albenga. L'Open House è una tecnica di marketing immobiliare nata nel mondo anglosassone, letteralmente significa casa aperta, ma consiste nell'organizzare un evento nel quale i potenziali acquirenti visitano l'immobile in un'unica occasione. Nel metodo Agio Casa l'Open House è uno degli elementi fondamentali che utilizziamo per valorizzare al meglio la vendita della tua casa. E adesso ti spiego perché. Punto 1. Concentrazione degli appuntamenti. La prima motivazione è molto apprezzata da parte dei proprietari che abitano la casa, perché hanno il pensiero di rendere presentabile al meglio la loro casa in un'unica occasione. Punto 2. Senso di competizione. Concentrare tutti gli appuntamenti in un unico evento crea un senso di competizione fra i clienti acquirenti, che li spinge a sottoscrivere un'offerta nel più breve tempo possibile. Ma non solo. La competizione spesso induce un meccanismo psicologico che non porta, come nella maggior parte dei casi, a offerte al ribasso, ma induce fin da subito il cliente acquirente a proporre la sua migliore offerta. 3. Hype pubblicitario. L'open house è uno strumento di marketing potentissimo che richiede un maggior investimento di risorse, di tempo ed energie da parte dell'agente incaricato. Funzionare correttamente, infatti, ha bisogno di una sinergia tra più canali, tra cui un servizio impeccabile di presentazione, newsletter, richiami mirati sulla banca dati, manifesti, sponsorizzazione sui social, nonché la tradizionale promozione sui portali immobiliari. In poche parole, il tuo immobile avrà un elevatissimo indice di visibilità che in altre condizioni di vendita non avrebbe. 4. Ridotti tempi di vendita. L'unione dei punti di cui ti ho appena parlato porta ad un unico grande vantaggio, che è ridurre i tempi di vendita e migliori realizi. Si stima una tempistica di vendita di 30-40 giorni dalla firma dell'incarico. Si procede, in prima fase, con quella che è un'analisi relativa a tutta la parte documentale dell'immobile, al servizio fotografico e alla promozione sui vari canali. Se incuriosito da questa strategia di vendita, chiamaci oppure passa a trovarci in uno dei nostri punti vendita.